Rispondi Vai Mammi Longlegs Ha il mio numero di telefono Devo bloccarla su Whatsapp Ragazzi E' uscito Poppy Playtime Per telefono Ma prima di provarlo Devo provare altre applicazioni Come Poppy Playtime Giusto per capire lo schifo Saranno bello o saranno brutte Boh Ma il mio libro è bellissimo Vi invito ragazzi a cliccare il link di Amazon Sotto in descrizione Per poterlo prendere Lo potete trovare anche in libreria Mi raccomando taggatemi su Instagram Con la vostra foto e il vostro libro Vediamo com'è il gioco Mob Games ha fatto uscire Un trailer di Poppy Playtime capitolo 1 Vediamo cosa hanno fatto Eccolo Ma chi è questo Mi scusi Le No Non ti preoccupare Non sei assolutamente Nella fabbrica Di Poppy Playtime Ma questo qua Un bambino Che gioca a Poppy Playtime E si ritrova dentro la fabbrica Scappa finchè puoi Che bella la maglietta di Aghi La voglio Ragazzi è proprio Pub Playtime Ma che è sto telefono Ma che cover è questo telefono Questa è una cover carro armato Se butti dal sesto pieno sto telefono Non si fa nulla Aghi Attenzione No ragazzi Si possono utilizzare anche le mani Quindi è proprio Poppy Playtime Si Lo voglio giocare Eccoci sullo store delle applicazioni E voglio cercare Non Poppy Playtime Ma Mammy Long Legs Mammy Long Legs Vai Eh vabbè Ma quante affidazioni ci sono Sono tantissime Mammy Long Legs Skin Skin per Minecraft Che bella quella skin Ma che schifo è La skin di Minecraft Allora Io non sarò Un genio Nel fare le skin di Minecraft Però Ce ne vuole Facciamo così Vediamo Il primo gioco Che mi capita Mammy Long Legs Hai due controller Installa Non posso più tornare indietro Gioca Mi scusi Gioca Ho paura che abbia scaricato un virus Aiuto No Adesso come faccio E se fosse un virus No Attenzione 99% Vediamo Nessuna minaccia rilevata Va bene Mi sono salvato Oh mamma mia Gioca Oh Stavolta parte Perfetto Finalmente qualcosa Che parte Ok Ecco Mammy Long Mammy Long Legs È proprio lunga È schiacciata È più lunga Continua Vai Modalità Difficile Prima missione Tu devi trovare Dieci Dieci Gioca Quella è la bevanda Di cica Stai attento È sì veloce Perché Mammy Long Legs Mi sta guardando Vai Eccoci Allora Io mi chiamo Lorenzo Sto Ma solo su Fnaf Ho capito Diciamo Devo scappare Devo scappare subito Immediatamente Perché c'è cica Devo trovare le bevande Ok Una bevanda Qui Prendila 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 bevanda Si vede i capelli pure Qualcuno Ok Ho trovato una bevanda Una di dieci Aiuto È là È là Non c'è Aiuto Mi sta tremando la testa Ok Andiamo solo dritti Va bene Dov'è Dov'è Corri Corri Sprint Sprint Vai Bravo 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 Girati Ma che cosa è Sono riuscito A prenderne una Li riuscirò a prendere Tutti e dieci Allora La prima è là Corri 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 Ma come faccio A prendere La bottiglia Ok Ancora non l'avevo presa Ma dimmelo Aiuto La testa Ma Io vorrei guardare Davanti Non nella testa Di sto tizio Io dovrei guardare Davanti Che mi Vado avanti Per conto mio Ho capito Un'altra Un'altra Qua ce n'è Tu è passato Più di cento secondi Sei vicino Per perdere Come vicino Per perdere Non posso perdere Così Ma ve ne rendete conto Disinstallate Sto gioco Dal play store Grazie Giochiamo a Puppi play time E va Eccolo Puppi play time Play Ho veramente Un gioco Che funziona Puppi play time Compro ora Così Subito Nel vero e tempo Gioca Fantastico Nuovo gioco E uguale Spiaccicato Al gioco Cioè C'è pure La intro E posso Skipparla Favoloso No vabbè Mi piace Ciao Benvenuti Siamo nella Papp Fabrica Di Puppi play time Guardate Fantastico Questo può saltare Yeah Yeah Vediamo dove c'è il treno Vediamo dove c'è il treno Questo è proprio Uguale al gioco E' stato fatto Dai creatori Del gioco L'unico problema Ma c'è questa grafica Di basso di risoluzione Perfino il gioco Di prima Potevo cambiare La grafica Ad alto Una porta Io la so Zeccare Allora Non è difficile Prendere la porta Ok Il problema Di giocare Giochiamo Pelle Prendere Le porte Verde Oh Verde Sì Entra dentro Fammi vedere Il grab pack Questo è proprio Quello vero Original Che è cassetta Cassetta E Metti dentro Vai Oh Oh Che emozione Faccio i salti Dalla gioia I salti Dalla gioia E vai Dammi sto Grab pack Grabbiamo il grab pack Prendilo C'ho la mano Blu E posso lanciarla E mano Blu E stupendo Si sta pure caricando Ovviamente sul computer Non si carica Aghi Inversione Bassa Risoluzione Ehi Aghi Io pensavo di vederti in alta risoluzione Non in così bassa risoluzione Però fa niente D'accordo Mi piace ugualmente il gioco Dammi le chiavi Maledetto Sono mie Grazie Ok vediamo qua Come l'hanno fatto Perché a me Sembrava diverso Dal trailer Infatti E' diverso Ragazzi E' diverso Tutta la zona Mancano pure I poster E qua non si vede niente Vai Così Da questa parte Uno Eeeh Due Se n'è andato Non ho voglia di combattere Contro un Aghi In bassa risoluzione Aghi Ciao Ti fatti dare un abbraccio Perché tutta quest'acqua Aiuto Ogni volta Sempre così Sì ma io voglio vedere Scappare da Aghi O Aghi In questo modo C'è impossibile Aspetto riesco a camminare Io non gioco E giochi mobile Ci siamo Ci siamo Ci siamo Fammi vedere come è la fabbrica Fammi vedere come è la fabbrica Wow Wow No ragazzi Ma credo che quel bug Non funzioni Ci potrei provare a farlo Però non credo funzioni C'è un problema A muoversi normalmente Le scatole qua volano Che è una bellezza Guardate come volano le scatole Vai Spingi Un pochino Grazie Mettiamo questa scatola qua E io il bug Me lo faccio È partito Yeah Che è partito Oh no No Scusa Qua Non sono pronto a correre No Sono pronto Sono pronto Sono pronto Lo faccio È volata una scatola Lo faccio Dobbiamo scappare Ah eccolo Ciao Aggie Aiuto Dobbiamo scappare Sì ce lo faccio 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 No Hanno fixato il bug Hanno fixato il bug Non è giusto Buggy Aggie Io volevo buggere la mappa I miei sogni infranti Non posso buggere la mappa Perché Vai 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 di qua Ok Stiamo a te Allora è fattibile Basta andare tutto avanti Ok Non basta andare tutto avanti Dobbiamo stare pure attenti Vai vai Corri 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 Mamma mia Ragazzi che ansia Che ansia Che ansia Vai scappa Ok Da che parte Da che parte Non sono bloccato Non è un problema Per me Dov'è il buco E qua il buco Il buco Sì Forza che ce la posso fare Aghi aghi È in bassa risoluzione Giù Ce l'abbiamo fatta Wow Sfonda tutto Prima che ti sfonda lui Vai Sì 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 Giù Vai Giù Sì Quello che ti meriti Aghi Paghi No va bene Troppo bello Troppo bello Fatto Uguale Io direi di provare Un'ultima App Di Mami Long Legs Di Poppy Playtime È questa app Quella Del numero di telefono Cosa vogliamo fare Con la mamma Chattare Oppure chiamarla Io direi di fare Una videochiamata Vai Sì pronto Oh mamma mia Che brutta faccia Che c'ho Salve Mi sta telefonando Baby Long Legs Che faccio Rispondo Sì Dai Oh my god Grazie Quanti anni hai Chissà quanti anni Ma Mami Long Legs Ha 23 anni Eh Sì Molto piacere Di conoscerti Guarda Meglio di no Grazie Sono contento Che ti piaccia Cosa stai facendo Mangiando una persona Dimmi di nuovo Grazie Posso chiamarti Ora Certo che poi Chiamiamo Rispondi Vai Ciao Forse ha mangiato Qualcosa di Ha variato Ieri sera Va bene ragazzi Io direi che Questo video Su proviamo Le app più pazze Di Poppy Playtime Lo posso anche concludere qua Spero tantissimo Che vi sia piaciuto E nulla Iscrivete al canale Se non l'hai ancora fatto Lascia un sacco di Pollice in su Mandami la tua foto Del libro Delle pietre del destino Link è sotto In descrizione Per Amazon Lo potete trovare Anche in libreria Qua il vostro Lorenzista è tutto E noi ci arriviamo Ad un prossimo video Eeeh Ciao